il 68 si veniva in guerra e ristorante un brasiliano si chiamava saragatto come? saragatto ah saragatto come? saragatto 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 bello a me piace tanto questo periodo Don Peppe si chiamava saragatto ho capito cosa ricorda lei del 68 della contestazione giovanile? tenevi al lento tenevi al lento e sembriacavo fuori con che cosa? covino come sembriacavo covino e quindi voi potete raccontarvi il vostro 68 cosa è successo con il 68 i figli dei fiori nudo i figli dei fiori nudo quindi non avete partecipato alla rivoluzione giovanile? io quando qui ho fatto ero fiori nudo carcerato tanto si avevano dei processioni le processioni in che senso? si tutto quanto facevano le processioni delle strumenti ma per andare in chiesa? ma le contestazioni ho capito manifestazioni sono tutte affidate e camminavano per me andavano ai Padre Pio? che facevano? nooo facevano un bordello andavano al bordello? ma non erano state chiusi le case? ma si senti che manca e 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 che cosa facevano? rompevano le cazze non facevano ma non stai cambiando il voto però potevano pagare la paginella potevano pagare la cina potevano pagare la cina potevano pagare la cina senza fare neanche lo cazze segnale il sei politico capisca? il sei politico ah bene non facevano neanche lo cazze e potevano diamante che c'è credo che facciano un gioco e riestruendo voi siete andato anche a dei concerti che ne so i rolling stones no io questo non l'ho mai fatto i beatles le zeppelin e seppolo i santana sì santana e santa maricchia ma dove rompevano il cazzo questi giovani don peppe ma faccio la faccio signor la faccio la faccio il tuo cazzo signor la faccio il tuo cazzo signor a che bella la faccio il tuo cazzo signor Pitti veramente contieniti un po' di docenza per favore ma scuola hai ragione signora di una certa età ma anche Pasolini attaccò i giovani che facevano il 68 non faccio niente Pasolini è saccio però se ne sbagliano con le moni scapurata senti ma voi che ti ha trovato a me No, ma effettivamente non c'è cacca niente Poi c'è Toma Toma cacchia cacchia Vabbè, era un discorso così per vedere che cosa ne pensa Zio Peppe del 68 Zio Peppe del 69 che cosa pensate? Ah, troppo bello Con Maitella lo facevate qualche volta Ah, troppo bello Raccontate che cosa facevate con Maitella Troppo bello, troppo bello E descrivete Zio Peppe Troppo bello, troppo bello, troppo bello Ma con Maitella di sopra, di lato o da sotto? Troppo bello, troppo bello, troppo bello Bello, bello, bello E poi te lo spiegate meglio Ma ero una vezia, dimmi me quel cuore Io volevo sapere il 69 con Maitella Che me lo vede a cercare poi Scusate Ma lei piaceva fare il 69 Ah, lo sto vedendo che la signora è un po' la socca da noi Abbastanza? Ma non ci capite Ha una stanza sola Ma so quanta stanza sta fatta Ah, lo sto vedendo che la signora è un po' la socca Grazie.